I Manifresh Ando Building, il re di nuovo da Pakis going on siamo qua con il secondo allenamento di Thai Box, ve l'ho detto, voi dovete spingere, seguire la pagina, commentare, condividere che vi farò ogni giorno un allenamento, se smettete di seguire io mi smetterò di allenare, quindi bro è tutto nelle vostre mani, adesso mi sa che avremo 10 minuti di corsa, quindi basta chiacchiere e fatemi tenere il fiato, a tra poco, vediamo il modo corretto per metterle, oh wow, ove, close, ove, close, ove, close, thank you, see you have over here, yeah, comunque bro te lo giuro tutta la massa che ho fatto in palestra ormai l'ho persa perché con sto caldo brucio tutti i grassi e yes ora è suonata la campana, si va in cerchio rot, 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 fasil, sap, zap, gap, one kick, go,Let's go,let's go, let's go, let's rip, go,let's go, let's go, let's pick, go,let's 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 go,et's go,astre, negar, negar,SC, toango, flag, affirm, нужно schiud, lesi, le, eee, 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 Buon appetito! 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 Perché, ebbè bro, siamo in Thailand, bisogna assaggiare, sono single, non ho figlio, finché poi si assaggia. E niente, io sono carico, magari domani faremo il bagno a ghiacciate, vi porterò pure a vedere un incontro professionale di Thai Box, che se le danno proprio pesanti. E' una cosa molto molto importante, turutop never stop, haters gonna hate, e bitches gonna suck my fucking dick. Su!